Tessuti Cordy. Da noi troverai un basso assortimento su quattro livelli di tessuti alta moda per abiti da sposa, per cerimonia, ricamati, drapperia uomo, abiti per uomo su misura, maglieria bramante, per ofil, ragno, dolce e gabbana, camiceria Dino R e Carla Pignatelli, cravate Missoni e Versace, tendaggi in organza, in purolino e in seta pura, tessuti per arredamento, broccati, matalasse, canapone, cinigliati, damascati, tovagliati in fiandra di purolino e cotone, tappeti nazionali ed esteri, biancheria per la casa delle migliori marche, intimo uomo donna, calze levante neonato e da oggi li puoi trovare nel nuovo punto vendita in piazza Risorgimento 2021. Tessuti Cordy, leader da 50 anni nel settore tessile, in piazza Risorgimento a Siderno Marina.